Buonasera e ben trovati all'appuntamento di oggi, lunedì 23 settembre. La giornata borsistica Piazza Affari è stata controbilanciata dall'indiscrezione che vedrebbe l'introduzione da parte del governo italiano di una tassa sugli extra profitti delle banche. Ciò ha provocato flessioni, come vedremo a breve, in un listino che, come sapete, riveste un ruolo cruciale sul paniere milanese. In aggiunta si segnala che la Germania intravede la recessione tecnica dopo l'uscita degli ultimi dati manifatturieri. Nonostante ciò, il Fuzimib ha registrato un deciso calo nei primi minuti, che ha poi recuperato mantenendosi in equilibrio per il resto di seduta, come vedete, dal trend laterale. In Germania, dove ovviamente le dinamiche interne italiane non hanno avuto impatto, la situazione è decisamente più rosea. Il progresso del mattino e del pomeriggio ha infatti riportato il DAX sopra i 18.800, con un guadagno superiore al mezzo punto percentuale. A Wall Street troviamo invece un Nasdaq che si riavvicina a quella quota 20.000 che l'indice storicamente aveva toccato solo nel mese di luglio, pressoché stabile la variazione del Dow Jones. Tornando a Piazza Affari, pesano anche i dividendi di quattro società, tra cui Eni, meno 1,28%, ed STM, che archivia poco sotto alla parità nella seduta di oggi, ma che ha accumulato da inizio settembre un ribasso a doppia cifra, toccando un record di minimo registrato solo a settembre 2020. Per ciò che riguarda i ribassi più marcati sul Fuzzimib, citiamo per lo più i titoli bancari. Unicredit supera il meno 3. Oggi si apprende che il governo tedesco, avviato un'indagine per approfondire come una banca italiana, sia riuscita ad acquistare il 4,5% di Commerce Bank. Seguono Banco BPM con più di due punti e mezzo, la Popolare di Sondrio sotto al meno 2, ed intesa a meno 1,88%. Continuano le difficoltà per il lusso, oggi il più colpito dai ribassi, Brunello Cucinelli a meno 1,68%. I titoli più acquistati appartengono al comparto automotive. Ferrari e Stellantis archiviano poco sotto ai due punti e mezzo, mentre Pirelli cresce di un punto e mezzo circa. Per le utilities, ERA e SNAM superano il punto e mezzo percentuale. Passiamo al Forex. Su Eurodollaro, intorno alle ore 9, in corrispondenza dell'avvio delle piazze europee, è iniziato un netto ribasso, che aveva riportato il cambio in area 1,0990, prima del recupero delle ore successive, il quale però è solo parziale. Sul cross Eurodollaro ascolteremo poi a breve la panoramica tecnica di Saverio Berlizani. Non si tratta però dell'unica divisa su cui la moneta unica perde terreno. Eurosterline ed euroieni, infatti, rispetto a venerdì, accusano perdite ancora maggiori, nell'ordine del mezzo punto percentuale. Detto ciò, non mi resta che dare spazio alla clip a cura di Saverio Berlizani. Ospite delle interviste di Traderlink di oggi, Saverio Berlizani, analista Active Traders, per vedere insieme a lui i mercati dopo gli ultimi dati macro. A te la parola. Ciao Rosana, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Traderlink. Beh, la sostanza è che stamattina il mercato è partito col botto, nel senso che erano attesi dei dati importanti sui PMI, cioè gli indici dei direttori di acquisto, che sono dei sondaggi fatti presso i direttori di acquisto delle grandi aziende che danno una loro opinione, quindi un sondaggio su quello che sono gli aggregati principali macroeconomici. Ebbene, il dato francese sul settore manifatturiero dei servizi composite ha mostrato tre ribassi molto significativi. Quello del settore manifatturiero a 44, che era atteso a 44,2, quello dei servizi a 48,3, era atteso addirittura a 53,1 e vi ricordo che il 50 è la cosiddetta linea Magino tra crescita e recessione. Poi sono usciti i dati tedeschi, che sono usciti anch'essi estremamente negativi, 50,6 il dato sui servizi, 40,3 in calo da 42,3 atteso rispetto al dato precedente a 42,4. Il dato del settore manifatturiero, la dimostrazione che il settore manifatturiero europeo è quello su cui si concentra la crisi in questo momento e un dato sul composite che è uscito a 47,2 rispetto al 48,2 atteso. Quindi dei dati estremamente negativi, adesso tra pochi minuti, 5 minuti, usciranno i dati del settore per l'intera Eurozone e temo che anche quelli saranno estremamente negativi. La reazione del mercato è stata immediata. Guarda l'ultima candela qua di ribasso dell'Euro-Dollaro che da 1,11,60 è sceso fino a 1,11. In questo momento stiamo intorno a 1,11 e un eventuale breakout di questo livello potrebbe portare i prezzi a 1,10,60, ma soprattutto a 1,10. Quindi debolezza di Euro, attenzione, perché i dati oggi potrebbero mostrare una grandissima debolezza di Euro se nel pomeriggio e gli stessi dati americani che sono attesi per le 15.45, dei servizi, del S&P manifattoriero, del PMI, i flash, dovessero uscire positivi. Beh, la differenza tra la congiuntura europea e l'americana porterebbe ad un probabile ribasso significativo dell'Euro ancora più dei livelli che abbiamo segnalato. Perfetto, Saverio. Allora vedremo le prossime pubblicazioni. Intanto ti ringrazio e rimando con te l'appuntamento alla prossima volta. Grazie a voi e arrivederci. Grazie Rossana e grazie Saverio. Per oggi dunque è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci a domani per ulteriori aggiornamenti.